benvenuti nel mio canale youtube sono il camion e siamo arrivati in un nuovissimo gioco abbiamo fatto le batwars e un po build and fly e ora siamo arrivati a un altro gioco esattamente se vedete ovviamente le skyblock è un gioco che lo gioco più da tanti anni ci ho fatto molte gustazioni come un like e che l'ho fatto piccolo 93 cuoricini se vedete in altro in alto a sinistra e ora vi faccio vedere faccio un piccolo tour del mio mondo qua c'è un hotel semi completo di lapis e un like un lapis un blocco di lapis ve lo faccio vedere quanto costa nel mercato ci dovrebbe essere scritto aspettate che nulla allora qua no no un blocco di lapis o vaga esistono non esistono cosa ma quando mai raga quando mai ok fatemi vedere no raga non c'è un blocco di lapis se sono cieco di centro sotto nei commenti lasciate un bel like e iscrivetevi ovviamente nel mio canale e se state vedendo vedendo qua c'è un piccolo paesaggio che porterà a casa mia quasi una piscina dorata che questo blocco ragazzi se vedete costa un botto e mentre qua c'è casa mia se vedete vi faccio entrare è un po' rotto e vabbè qua sono le bandiere ucraina e italia e poi se andiamo qui sopra c'è c'è una finestra una roba che fa facciare di là poi c'è il cesso di diamante lo chiamo così c'è una piccola biblioteca un bel un balconcino e qua ragazzi c'è un'altra bandiera scrivete sotto nei commenti quale bandiera sarà mai io lo so dicete sotto nei commenti quale sarà ok ok a questa roba ci ha dato mesi per fare perché è veramente costoso 2023 cuoce il mio livello poveri isola poveri isola media isola ricca poi sono veramente veramente ricca la mia è ricca non posso ancora arrivare di là perché ho poco questo blocco se abbiamo un sacco di questo blocco ragazzi le robe valgono tanto qua c'è ragazzi la prigione più grande in assaluto e questo è vero è la prigione più grande mai fatta da me poi qua se c'è una casa una casa da dove io prendo i blocchi qualsiasi c'è qualcosa di veramente costoso ora queste non ci servono più sono inutili e non ci servono più forse non c'è ste vuote qua con un ma c'è tutta questa roba sapete di già poi qua c'è il mio cimitero si qua c'è il mio vecchio account che l'ho perso e qua sono altre tombe che non lo so cosa servono lo costruite per i miei amici poi qua c'è una piramide semi piramide lì l'ho costruita per per vendere delle cose e questa è la free zone la zona non lo so blocchi questa è una casa di un mio amico e mi metto le robe poi qua c'è la mia vecchia casa una coltivazione e poi se mi ricordo perché non ci gioco da tanto tempo qua ci dovrebbe essere ecco ragazzi qua sono i miei amici leggeteli se volete e allora ve li faccio vedere i mezzi sono italiani gli altri sono inglesi ok ok qua c'è la lava prima ragazzo no 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 perché sono stufato ragazzi prima oggi la lava è bellissima e nel prima la lava faccio questo ignoratelo perché non era poi qua abbiamo fatto l'albero di natale se vedete un albero di natale normale poi qua c'è una grande casa inutile l'ho costruita perché volevo un po una casa di fama ho costruito una casa bellissima ovviamente ok ora lì c'è la roba più grande che ho fatto è stato quasi l'ultimo progetto che ho fatto esattamente ragazzi un castello enorme assolutamente e gigante ho dato esattamente due giorni per farlo perché i materiali e soldi ci servivano e ovviamente trono poi qua sono ceste che queste ceste ragazzi valgono e poi ci sono diamanti e queste cose circondate a muraie e queste due più alte di tutte poi se andate qua ora non è più prima c'è una trappola poi mi hanno detto tutti di toglierla allora l'ho tolta ora ragazzi ora andiamo qua andiamo a prenderci le nostre insorse ecco questo è la lobby del gioco e poi è spuntato anche un altro giocatore perché un player mentre io qua mi prendo tutti i miei smeraldi quanta 3 milioni un milio ma quanti soldi ho? fatevi contare un milione mamma mia andiamo nelle cose varie e andiamo con bracci del GB che costa me ne posso prendermene uno quello costa ancora di più questi costano già tanto mamma mia questo è peggio un privilegio che io non lo ho e ora ragazzi lì posso volare qua però ecco questa ragazzi è la roba più senza senso di tutti sì qua c'è un coniglio quindi le uova ecco non ha senso un uovo per me non ha senso ora andiamo nella mappa ecco questa è la mappa ora andiamo nella limited zone non l'ho mai guardata perché per me è stata veramente inutile allora ragazzi ve la faccio vedere e poi faccio fine il video ok wow mamma mia che cos'è questo? mamma mia qua cosa si fa? si si prende i blocchi e allora va bene ok ragazzi il video lo faccio venire qua iscrivetevi al mio canale lasciate un bel like e ciao ciao ciao